Sì, sì. Poi siete i principi del pettegoletto, quindi non mi coinvolgerete. Il tribunale Grillo non è pettegoletto, almeno su questo qualcuno potrebbe aggiungere. Ma invece gli altri candidati a premier li conosce lei? No, perché non sono... Ci può consigliare qualcuno? Voi un minimo di vergogna, voi la percepite per il mestiere che fate, sì o no? Un minimo di vergogna. O perché fate il vostro lavoro da dieci euro al pezzo, che giustifica tutto questo che state facendo, specialmente in questa città. Sulla realtà delle cose vi ponete un minimo di responsabilità di quello che mandate in onda sui giornali e nelle televisioni. Un minimo di amore proprio per questa terra qua. Un minimo. Ce l'avete oppure non vi riguarda. Non avete nessun tipo di responsabilità. Ogni giorno c'è una trappola. Ogni giorno qualche dirigente che lavora per i partiti e non per il bene comune fa delle trappole. Andate a seguire i nostri assessori, andate a seguire l'AMAC, il lavoro che sta facendo. Ma appaiono solo il topo, la zanzara. Ma vi dovreste vergognare veramente? Che le ha detto la Montanari stamattina, Grillo?